Bentornati amici di Mangro e Disney! Oggi parliamo delle uscite numero 31 e 32 di Aelop Aperopoli, il super mega progetto di Centauri e Panini Comics, grazie al quale finalmente possiamo costruire la splendida città dei Paperi. Paperopoli è una città viva e frenetica, ristoranti, locali, negozi, vita notturna, parchi, pensate che ci sono più di un milione di paperopolesi da amministrare. Per fortuna, grazie a queste due uscite, scopriremo qualcosina in più riguardo il municipio di Paperopoli e il suo sindaco. Tassa sui video unboxing! Ma chi? Uno dei 37 tasselli della base del plastico, due alberelli verdi, la prima panchina rossa e ovviamente il protagonista di questi due fascicoli, il municipio di Paperopoli. Grazie all'architetto Pisapia daremo un'occhiata alla struttura del municipio. Insieme a Poché e a Paccagnella vedremo innanzitutto l'evoluzione grafica del personaggio del sindaco. Per rappresentare il sindaco hanno utilizzato un suino. E vedremo anche come lo zione e i rocker duck sono molto importanti per le casse comunali, soprattutto durante il periodo delle elezioni. Nel fascicolo 31, Gula e Camerini ci presentano la loro stravagante storia, Zio Paperone e il club dei parsimoniosi. Vitaliano e Vipolito invece nel fascicolo 32 ci illustrano Dinamite Blà e il maiale da concorso. Nella prossima uscita, infine, cominceremo a costruire la casa di Paperoga e troveremo la statuina di Anacleto Mitraglia, acerrimo vicino di Paperino. E anche per questa volta, a proposito di Hello Paperopoli, spero di aver detto tutto. Condividete, taggate, mettete mi piace, fate quello che volete e soprattutto non mancate l'appuntamento del Comic-Con 28 e 29 aprile. Io e Marco Silvestri vi aspettiamo lì. Al prossimo video! Ah, sto ancora qua.